buongiorno carissimi amici oggi ando a preparare gli eclair sono dei buonissimi pasticcini di pasta choux o pasta per bignè sono dei bastoncini stretti e lunghi si falciscono con crema pasticcera al cioccolato frutta fresca e creme varie io oggi andrò a preparare gli eclair alla mousse al limone e ora seguitemi in cucina vi mostrerò gli ingredienti che andrò a utilizzare e i vari step gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 130 grammi di farina 00 3 uova medie 100 grammi di burro 200 ml di acqua un cucchiaino di zucchero un pizzico di sale incomincio a preparare la pasta per fare i bignè nella casseruola metto l'acqua il pizzico del sale lo zucchero e il burro volta a bollore verso in un sol colpo la farina e mescolo energicamente lascio sul fuoco per un paio di minuti la pasta deve staccarsi dai bordi della pentola ho trasferito l'impasto in una ciotola l'ho lasciato intiepidire unisca al composto le uova una alla volta aggiungo il successivo quale il precedente sarà ben assorbito l'impasto è pronto nella sac a poche ho messo l'impasto ho tagliato la punta per un diametro di circa 2 cm formo sulla teglia da forno leggermente imburrata delle strisce lunghe circa 9-10 cm a questo punto lascio cuocere a 180 gradi per circa 20-25 minuti devono risultare dorati una volta cotti lascia raffreddare farcirò l'eclèvre con la delicatissima e profumatissima mousse a limone trovate il video nel mio canale e ora taglio a metà ho trasferito la farcia in una sac a poche farcisco l'eclèvre ho spolverizzato l'eclèvre con lo zucchero a velo consiglio di servirli entro un paio di ore gli eclèvre sono semplicemente delicatissimi a presto ciao